Anche il super blindato Bancomat della sede centrale della Cassa di Risparmio di Asti in via Gardini è stato violato dalla banda di clonatori di carte di credito. Una denuncia è stata presentata ieri in questura da cui emerge che secondo gli accertamenti dell'Istituto Bancario per ora sarebbero state clonate 20 tessere per importi medi di 250 euro. Sul posto la polizia scientifica ha recuperato una micro telecamera che era stata posizionata in un punto strategico da almeno due giorni per copiare i codici di accesso ai conti. E la compagnia di Asti della Guardia di Finanza prosegue il suo impegno sulla sicurezza e la qualità delle merci esposte e commercializzate. Per queste festività di San Secondo ed in particolare mercoledì scorso nel corso della Fiera Carolingia sono stati intensificati i controlli dei venditori ambulanti contrastando il fenomeno dell'abusivismo e sequestrando 227 confezioni di profumi riportanti i marchi delle principali griffe recanti la dicitura, falso d'autore. Inoltre nel corso di ulteriori accertamenti presso un altro commerciante sono state scoperte almeno 112 camice recanti marchi contraffatti anch'esse immediatamente sequestrate e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. I titolari delle ditte interessate, entrambi italiani, le cui iniziali sono ZM di anni 55 e CM di anni 48, sono stati segnalati alla locale procura della Repubblica per il reato di detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. Nel corso delle manifestazioni infine i militari hanno verificato la regolare missione degli scontrini fiscali anche nei confronti dei numerosi venditori ambulanti presenti nel mercato. Ben 17 commercianti sono stati così colti in flagranza con la conseguente redazione di altrettanti verbali per non aver rilasciato il documento fiscale agli acquirenti. E questo fine settimana qui ad Asti è in programma Vinissage 2010, il salone enologico unico in Italia dove saranno in degustazione vini naturali da ue biologiche e biodinamiche. La rassegna è ospitata nel prestigioso palazzo del Michelerio, sono 60 gli espositori che saranno presenti per abbinare i vini con la gastronomia locale. L'iniziativa del Comune, giunta alla quinta edizione, ha trovato l'appoggio della regione e della provincia di Asti e vede espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e dalla Francia. E domenica sera a Monbercelli, l'attivissima sezione della Croce Verde, organizza un originalissimo musical per raccogliere fondi. Il titolo dello spettacolo è Monbergris. Vediamo. Uno spettacolo che abbiamo preparato noi volontari, è un anno che proviamo e insomma è un bellissimo musical dove cantiamo, balliamo e recitiamo. Noi non siamo professionisti, quindi ci siamo un po' improvvisati, però è stata una bellissima esperienza e attraverso questo progetto speriamo di divertirci, ma anche di far divertire il pubblico che speriamo sarà numerosissimo. Due gli obiettivi di questa iniziativa, Monbergris, uno è naturalmente quello di raccogliere fondi a favore della Croce Verde e l'altro di coinvolgere sempre più i giovani. Sarebbe essere anche per invitare molti giovani a essere presenti e a venire a fare questo, a mio dire, bellissimo lavoro, nel senso che comunque è una cosa bella dove ci mettiamo di noi stessi dentro. e le offerte, come ha detto già lui, sono per l'associazione, per il cambio dei mezzi nuovi e tutte le attrezzature che servono per poter far funzionare meglio la nostra associazione. E anche per oggi qui da Asti è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna allo studio. La linea torna allo studio.